Buongiorno a tutti, qui vi parla è Claudio Simeoni, qua trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesi. Ricordi che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista Stragone e Guardiano dell'Anticristo e sono anche il responsabile della Federazione Pagana. Nella trasmissione di oggi, che va in onda dai microfoni di Radio Pagana, parleremo della possessione. Il concetto della possessione, che spesso oggi come oggi se ne parla dal punto di vista monoteista, in realtà è un concetto estremamente antico. Ne parlava già Aristotele, ne parlavano già Giamblico, ne parlavano un sacco di gente, ne parlavano anche gli orfici, ma non è mai stato chiarito che in cosa consistesse e che cosa fosse la possessione. E in realtà è una cosa estremamente interessante riuscire anche a comprendere cosa vuol dire essere posseduti o cosa intendevano le persone che venivano possedute sul significato di essere possedute. Attenzione a non confondere la possessione con la patologia psichiatrica, che è una cosa diversa, anche se usa praticamente gli stessi identici meccanismi per esprimarsi. Per riuscire a fare un discorso sulla possessione e per riuscire anche a chiarirvi cosa intendo io sulla possessione, mi servo di un piccolo libretto, un articolo all'interno di questo libretto, che è di Roberto Galasso e si intitola La follia che viene dalle ninfe e che ci parla appunto della possessione propria delle ninfe indotta dalle ninfe. E mi avvarrò di questo libretto, diciamo così, edito dalla Delfi, per parlarvi del concetto di possessione, o meglio, non il concetto di possessione, perché nel paganesimo politeista non esiste un concetto di possessione. Il concetto di possessione esiste soltanto all'interno di una visione monoteista della vita oppure di una visione filosofica che basa se stessa sulla verità, cioè sul modello inderogabile dell'individuo, non su un processo di libertà, sulla costruzione di un modello filosofico di libertà, dove non esistendo un modello di riferimento, un modello assoluto a cui sottomettere le pulsioni umane, chiaramente ogni manifestazione umana ha la sua legittimità e ha la sua coerenza all'interno dell'insieme in cui si esprime e fatta dall'individuo che la esprime. Ma detto questo, è importante che noi partiamo dal concetto di possessione per riuscire a capire cosa sia in realtà questa possessione e come noi possiamo gestirla ed usarla per i nostri benefici. Parto con la lettura della Folia delle Ninfe di Roberto Galasso, che scrive, per i greci, la possessione fu innanzitutto una forma primaria della conoscenza, nata molto prima dei filosofi che la nominano. Si può addirittura dire che la possessione comincia a essere nominata quando la sua sovranità sta già declinando. È perciò curioso osservare con quale sicurezza studiosi come Dodds affermano che Omero ignorava la possessione. Ma lei ignorava semplicemente perché era ovunque tutta la psicologia omerica degli uomini e degli dèi questa ammirabile costruzione che solo l'ingenuità dei moderni ha potuto giudicare rudimentale è attraversata da un capo all'altro dalla possessione. Se possessione è in primo luogo, il riconoscimento che la nostra vita mentale è abitata da potenze che la sovrastano e sfuggono a ogni controllo ma possono avere nomi, forme e profili. Con queste potenze abbiamo a che fare in ogni istante. Sono esse che ci trasformano e in cui noi ci trasformiamo. Vorrei fermarmi un attimo qui per iniziare la prima riflessione. Questa sissione fra corpo e anima, fra corpo e mente, fra pulsioni e corporeità, è sempre stata uno dei grossi guai della filosofia moderna che nata con Platone e con Aristotele tendeva a separare il corpo da quelle che sono le sue pulsioni emotive, da quello che è la sua anima, da quella che è la sua mente, da quella che è la sua psiche, da quello che sono le sue emozioni. Questa separazione ha ricostruito dopo l'unità corporea nell'individuo rimettendo insieme tutta una serie di cose che erano state separate. Ma separare aspetti dell'individuo, cioè il suo corpo, dalle sue emozioni, dalle sue pulsioni, dalla sua emotività, dalla sua anima, dai suoi sentimenti e dalla sua mente, significa non aver più l'individuo perché l'individuo non è altro che un corpo che esprime emozioni, sentimenti, pulsioni, anima, emozioni. È il corpo che esprime tutto questo e l'unità del corpo è data dall'unità di tutte queste pulsioni, da tutti i suoi adattamenti soggettivi fatti nella sua oggettività. Ora, pensare che nel corpo umano ci siano cose diverse dal corpo, cioè che la mente dell'uomo sia abitata, da cose diverse della mente dell'uomo e dal suo corpo, e dalle sue pulsioni, e dalle sue tensioni, e dalle sue passioni, significa scindere ciò che invece non può essere assolutamente scisso. Chiaramente possiamo parlare in maniera diversa del corpo, della psiche, delle emozioni, dell'anima, della mente, di una persona perché parliamo di aspetti diversi della stessa persona, ma non possiamo scindere la persona del corpo, dell'anima, delle pulsioni, delle emozioni e della mente proprio perché la persona in sostanza è un tutt'uno. Il corpo senza le emozioni non ha ragione di essere, ma sono le emozioni che hanno generato un corpo e la trasformazione all'interno dei milioni di anni di trasformazioni, di adattamenti e di evoluzione. E i sentimenti sono ciò che ci legano al mondo, la nostra percezione emotiva è ciò che ci permette di legarci al mondo. E il problema grosso che Galassio individua, cioè che gli antichi individuano in questo momento, non è il fatto che la nostra mente è solcata da numerose potenze con quelle quali abbiamo a che fare in ogni istante, ma che tutte le potenze che noi individuiamo nel mondo in realtà sono parte della nostra costruzione, sono parte della nostra trasformazione. E questo ci induce a osservare il primo concetto di possessione che poi degenerando arriva nella possessione diabolica cristiana che in realtà non è che noi siamo posseduti da potenze che ci attraversano, che ci pulsano, che ci spingono, ma ciò che ci attraversa, che ci spinge, che ci pulsa, non è altro che il noi stessi, il nostro divenuto che noi rappresentiamo nell'oggettività. Ma se queste che noi consideriamo pulsioni che ci spingono, le consideriamo delle potenze perché le riconosciamo non solo dentro noi stessi, ma le riconosciamo anche nell'oggettività in cui viviamo, le riconosciamo negli altri individui, le riconosciamo negli animali, le riconosciamo nelle piante, sia chiaro che noi a quel punto non siamo altro che una costruzione di queste potenze, di queste forze che pur costruendo noi stessi costruiscono anche l'oggettività nella quale noi viviamo e manifestando queste potenze, manifestando queste forze, manifestando queste pulsioni nell'oggettività in cui viviamo, noi manifestiamo noi stessi. pertanto non è un oggetto esterno una potenza esterna che ci possiede, ma sono delle potenze che esistono nell'oggettività, ma che proprio perché esistono nell'oggettività esistono anche in noi stessi che rispetto a soggetti diversi da noi rappresentiamo un dato oggettivo. Pertanto noi siamo attraversati da forze che manifestiamo nella nostra oggettività, ma quelle stesse forze sono manifestati da altri soggetti che si manifestano nella loro oggettività. Pertanto ritorniamo al paganesimo politeista dove non siamo posseduti da oggetti esterni a noi, ma siamo sempre noi stessi che siamo formati dalle stesse forze e dalle stesse tensioni che esistono nella vita. Il mio fegato è uguale, non ha molte differenze sostanziali con il fegato di un lupo o di un leone o di una zebra. Sostanzialmente ha la stessa funzione, è adattato in maniera diversa ma ha la stessa funzione. Perché dunque la stessa pulsione emotiva non devo averla io, il lupo o la zebra. Se abbiamo un corpo simile abbiamo anche delle pulsioni emotive simili per cui siamo attraversati dal punto di vista del paganesimo politeista siamo costruiti dagli stessi dei con le stesse modalità ed esprimiamo quegli dei nella vita oggettiva. Non sono gli dei che ci possiedono ma sono gli dei che ci costruiscono per ciò che siamo e in quella costruzione noi manifestiamo noi stessi manifestando gli dei. Attenzione perché questo discorso che apparentemente sembra superficiale in realtà va proprio a scardinare quello che è il discorso della possessione diabolica che fa i cristiani o che hanno fatto anche Ermete Trimegisto nel Corpus Ermeticum e tanti altri che hanno fatto Giamblico che hanno fatto i Neoplatonici cioè quasi che le anime siano separate dai corpi siano oggetti diversi dai corpi e entrano nei corpi come fosse un involucro non è assolutamente vero è il corpo che manifesta le pulsioni proprie della specie cui appartiene e manifesta quelle pulsioni che riconoscono come dei che agiscono in esso e questi dei manifestati nell'oggettività nel mondo in cui viviamo costruiscono il Dio che noi saremo in pratica vi ricordo sempre che all'interno della religione pagana politeista noi non siamo altro che dei soggetti che stanno crescendo che stanno costruendo il Dio che cresce dentro di loro andiamo avanti con la lettura in questo senso l'Iliade sin dal primo verso che nomina l'ira di Achille è una storia di possessione poiché quell'ira è un'entità autonoma incuneata come una scheggia nella mente di Achille quando la vita si accendeva nel desiderio o nella pena o anche nella riflessione gli eroi omerici sapevano che un Dio li agitava questo è ciò che dice Galasso in realtà erano loro che manifestavano quel Dio quell'eroe quella pena ogni accrescimento subitaneo dell'intensità emotiva faceva entrare nella sfera di un Dio questo è il primo significato della parola Enfeons che è il cardine stesso su cui ruota la possessione plenus Deo così la traducevano i latini la mente era un luogo aperto soggetto a invasioni incursioni subite e provocate incursio ricordiamo è un termine tecnico della possessione ciascuna di quelle invasioni era il segnale di una metamorfosi e anche qui va capovolto il senso di ciò che sta dicendo Galasso non è l'invasione del Dio dentro di noi ma è il contrario cioè siamo noi che manifestiamo quel Dio nella vita nell'oggettività in cui viviamo perché quel Dio è parte di noi stessi noi siamo costruiti da milioni di Dei di tutti questi milioni di Dei che ci costruiscono ne esprimiamo una certa quantità e ne esprimiamo una certa quantità con particolare intensità ma siamo noi che esprimiamo quel Dio e quando quel Dio noi lo esprimiamo chiamiamo quel Dio nell'oggettività chiamiamo il Dio oggettivo per cui il nostro furore chiama il furore oggettivo la nostra pena chiama la pena oggettiva e questa è la relazione empatica che esiste fra noi e il mondo in cui viviamo perché se esiste un Apollo dentro di me una Diana un Zeus una Minerva un Saturno un Plutone esiste un Plutone nell'oggettività una Diana nell'oggettività un Apollo nell'oggettività un Zeus nell'oggettività che vengono chiamati dagli Zeus dagli Apolli dai Diana dalla Minerva dentro di me e li chiama proprio quando si fondono col medesimo intento attraverso le espressioni delle stesse emozioni e delle stesse azioni pertanto non esiste una invasione dall'esterno ma esiste invece un'espressione verso l'esterno attraverso il mio fare attraverso le mie emozioni attraverso la mia azione degli dei che mi compongono e nel manifestare gli dei che mi compongono verso l'esterno chiamo gli dei del mondo quel dio del mondo ad affiancare le mie azioni dice Galasso ciascuna di quelle invasioni era il segnale di una metamorfosi e ogni metamorfosi era un'acquisizione di conoscenza certo non già di una conoscenza che rimane disponibile come un algoritmo ma una conoscenza che è un pathos come Aristotele definì l'esperienza mistica in realtà ogni volta che io manifesto un dio manifesto un'emozione manifesto una passione a livello estremamente profondo c'è una modificazione della mia struttura emotiva e si trasforma in conoscenza c'è tutto ciò che è in modificazione della mia struttura emotiva attraverso l'azione nell'oggettività in cui vivo c'è una mia modificazione oggettiva profonda che poi si trasferisce all'interno della ragione attraverso una modificazione del modo di pensare del modo di leggere il mondo del modo di considerare il mondo dice ancora Galasso questa metamorfosi che si combie lottando con figure che abitano al tempo stesso la mente e il mondo o abbandonandosi a esse è il fondamento della conoscenza metamorfica che riconosciamo nella possessione una conoscenza che non può presentarsi se non in termini erotici feleptos e feoflektos l'essere presi dal dio o l'essere colpiti dal dio le due modalità fondamentali della possessione corrispondono ai due modi delle epifanie erotiche di Zeus il ratto e lo stupro la conoscenza metaformica è un fiume sotterraneo che appare le luci e scompare di nuovo per tutta la nostra storia così la sua definizione più drastica sarà formulata da un grande neoplatonico rinascimentale Patrizzi conoscere est coire cum con i cognobili perciò Platone dopo aver elencato nel Fedro i quattro tipi della possessione afferma che la possessione suprema è quella erotica la mania erotiche e qui siamo a una variabile di Calasso sulla questione che sta dimenticando i fondamentali i fondamentali attraverso i quali diviene la possessione perché se è vero che la manifestazione dei soggetti si integra assolutamente col Dio che manifestano e il Dio che manifestano li coinvolge al punto tale che tutte le loro emozioni tutto il loro essere si fondano esattamente con quel Dio ciò che è la rappresentazione di quel Dio nell'oggettività non è altro che la manifestazione dell'individuo in quell'oggettività cioè non è altro che la manifestazione dell'individuo nel mondo ora perché i greci antichi o perché Calasso riesca a comprendere un travolgimento emotivo talmente forte da poter prendere tutto l'individuo nel suo insieme nel mondo può parlare soltanto di erotismo può parlare soltanto dell'effetto di Afrodite ma non è in grado di uscire da quell'effetto di Afrodite perché non è in grado di vedere gli altri dei che agiscono sull'uomo gli altri dei quando l'uomo agisce a morte quando agisce con tutto se stesso quando mette in gioco le sue passioni emotive quando mette in gioco i suoi desideri quando mette in gioco se stesso anche per la costruzione del proprio futuro perché Afrodite comunque è la costruzione del futuro di era perché Afrodite la passione che travolge Afrodite è foriera porta alla nascita Zeus le passioni amorose di Zeus portano alla trasformazione del presente perché quando Zeus ha una relazione sessuale da quella relazione sessuale nasce una modificazione del presente e nascono tutta una serie di trasformazioni del mondo ed è talmente importante la nascita delle trasformazioni del mondo che nel mito greco possono essere dipinte soltanto dal punto di vista dal punto di vista della sessualità la sessualità il rapporto sessuale all'interno del mito greco porta alla nascita del nuovo il nuovo si genera soltanto per passione amorosa Zeus e Latona partoriscono i bisessuali la bisessualità all'interno degli esseri della natura Apollo e Diana sono la bisessualità e portano avanti poi nel corso del tempo la diversificazione delle specie per cui il nuovo la bisessualità può nascere nell'insieme femminile della vita e della natura soltanto perché Zeus si accoppia con Latona racconta Pindaro scrive ancora Galasso che la possessione erotica scese nel monte dall'Orimpo sotto forma di un oggetto una sorta di giocattolo enigmatico che alcuni hanno avvicinato alla trottola altri al diabolo era una ruota con quattro raggi a cui si saldava il corpo di un uccello il torcicollo noto per i suoi guizzi convulsi Afrodite la sovrana dei dardi più veloci dice sempre Pindaro ne fece dono a Giasone perché seducesse Medea la dea nata a Cipro portò per la prima volta agli uomini il variegato uccello delirante e insegnò al sapiente figlio di Esone incanti e fatture perché facesse dimenticare a Medea il rispetto dei genitori e il desiderio di vedere la Grecia frustasse la sua mente infiammata con la sferza di Peitò ma chi era Ignis il variegato uccello delirante una ninfa ancora una volta aveva offerto a Zeus un filtro d'amore per farlo incapriciare di io sacerdotessa di Hera e Hera l'aveva punita trasformandola in quell'uccello di cui i greci dicevano che era Seisopigis che scuote le natiche è forse questa la prima immagine in cui troviamo saldate la fatalità e la fatuità il nome delle fate eredi delle ninfe deriva dai fata le tre parche e da certe oscure divinità dette fatue nome che si riferisce al fari profetico prima di dare origine in francese in italiano alla parola fatuità o fate il termine fatte deriva anche e deriva da queste tre fatue e queste tre divinità tre statue che erano a Roma e che servivano per ricordare agli uomini gli sforzi che facevano le donne per partorire ed era con le parche rappresentavano il simbolo della vita cioè si nasce si costruisce il proprio corpo luminoso e si muore per cui era una rappresentazione di tutta l'esistenza e in quella si costruisce il proprio e si nasce si costruisce il proprio corpo luminoso e si muore cloto la chiesi e atropo non era altro che rappresentata proprio la costruzione di atropo cioè la piccola dea il piccolo dio che cresceva dentro ogni essere umano e che poteva crescere soltanto se l'essere umano nella propria esistenza faceva degli sforzi talmente grandi che sono equiparabili a quelli delle donne mentre partoriscono cioè ogni volta che noi facciamo un'azione ogni volta che noi agiamo nella vita ogni volta che nella quotidianità noi investiamo le nostre passioni le nostre emozioni non facciamo altro che accrescere la forza di atropo che cresce dentro di noi ma per farlo noi abbiamo gli strumenti e gli strumenti sono ciò che noi siamo e ciò che noi siamo sono gli infiniti numeri di dei che costruiscono il nostro corpo le nostre passioni le nostre pulsioni i nostri desideri e che noi possiamo esprimere nella quotidianità fondendo le nostre emozioni con quelle del mondo attraverso una relazione empatica fra noi e il mondo quando io divento Apollo sono tutto io che diventa Apollo quando io divento Minerva sono tutto io che diventa Minerva quando io divento Ares sono tutto io che diventa Ares e questa manifestazione del Dio trasforma le mie emozioni e trasforma e costruisce il piccolo Dio che cresce dentro di me sono un crogiolo di dei manifestando quegli dei costruisco il Dio che sarò perché un pagano politeista vive nell'oggettività in cui nasce proprio come fosse nel grembo della madre nell'utero della madre è come se costruisse se stesso come un feto che tenta di diventare sempre più forte nell'oggettività in cui è contenuto per poter arrivare alla luce per poter morire come feto e nascere come essere luminoso ed è questo esattamente che viene indicato dagli antichi attraverso le parche o attraverso le fate era effettivamente il fatto che la vita va vissuta con uno sforzo con uno sforzo eroico ed è anche la rappresentazione di Ercole nelle nostre azioni perché questo costruisce ciò che noi siamo dice ancora Calasso nella ruota a cui il torcicollo viene saldato riconosciamo la ruota di Isione il cerchio ineluttabile della necessità mentre nei guizi di Iinx i greci percepivano un gesto di fatuità erotica noto a tutti in music hall e li saldano insieme come dovremmo saldare di noi per risalire all'origine delle ninfe la storia di Iinx ci mostra che la possessione è in senso letterale un dono divino come dice il Fedro e questo che non è vero e che Calasso non è riuscito a cogliere la possessione non è un dono divino ma siamo noi che ci facciamo dei nel momento in cui manifestiamo quegli dei Apollo senza gli esseri maschili non esisterebbe come Dio il corpo di Apollo è costituito da tutti gli esseri maschili esistenti di qualunque specie della natura essi siano e così il corpo di Artemide è costituito da tutti gli esseri femminili della natura nel loro insieme da quando le specie si sono diversificate esattamente come il corpo di Hera è costituito da tutti gli esseri della natura nel loro insieme e così il corpo di Zeus è costituito dall'atmosfera che avvolge la terra e così il corpo di Minerva è costituito da tutte quelle passioni che le persone fanno per costruire per progettare il loro futuro che usano la loro intelligenza razionale per costruire il loro futuro ma se le persone ignorano che esiste una costruzione del futuro e non mettono in atto delle azioni virtuose delle azioni strategiche per la costruzione del loro futuro non manifestano la grande Minerva il corpo di Minerva si rattrapisce e così vale per le passioni di Afrodite se Afrodite attraversa tutti gli esseri della natura e li spinge alla fusione erotica ma non alla fusione erotica semplicemente per l'erotismo ma alla fusione emotiva la fusione emozionale alla trasformazione di se stessi ma se gli esseri della natura non si fondono gli esseri della natura non si trasformano non vengono travolti dalle emozioni e spazzati via ogni tabù ogni ostacolo che impedisce il loro spostarsi verso il futuro il loro fondarsi nel mondo in cui vivono allora il corpo di Afrodite muore su se stesso si rattrapisce la storia di Inx come continua Galasso ci mostra che la possessione è il senso letterale un dono divino no siamo noi torno a ripetere che ci facciamo dei nel momento in cui manifestiamo gli dei che ci sono dentro di noi è precisamente uno strano oggetto che Afrodite regalò a un eroe secondo un frammento di Pindaro Apollo fece affiggere al suo tempio di Delhi delle hinges d'oro perché l'oggetto che racchiude la possessione fosse accolto nel suo luogo predestinato e sopra il frontone cantavano le incantatrici dorate in età Alessandrina infine le hinges che non so esattamente come si pronuncia si trovavano spesso nelle stanze femminili accanto agli accessori per il trucco le usavano certe donne infatuate per richiamare a sé da lontano gli amanti ribelli se all'origine della possessione incontriamo una ninfa se le ninfe presiedono alla possessione nella sua massima generalità così è perché esse stesse sono l'elemento della possessione sono quelle acque perennemente increspate e mutevoli dove improvvisamente un simulacro si staglia sovrano e soggioga la mente ed anche questo sfugge a galasso la ninfa è l'intelligenza emotiva che viene rappresentata dagli oggetti del mondo che viene rappresentata dai luoghi che viene rappresentata dalle acque che viene rappresentata dalle fonti che viene rappresentata dai boschi che viene rappresentata dagli alberi un'intelligenza emotiva che cerca delle relazioni che cerca delle fusioni che amaglia che ci chiama che ci che ci accarezza per questo quando noi vediamo un tramonto dopo miliardi di anni il tramonto o l'alba suscitano dentro di noi delle emozioni così certi laghi così certi boschi così certi fiumi così certi anfratti di rocce sembrano quasi che chiamano i nostri sentimenti chiamano le nostre emozioni ed è l'intelligenza emotiva del luogo che ci chiama perché questa è la ninfa e cerca le relazioni con noi e sollecita dentro di noi i nostri sentimenti le nostre emozioni le nostre tensioni verso o delle tensioni avverse quando ci allontanano e quando le cose non ci piacciono e quando non incontriamo qualcosa di noi nel mondo esterno allora ci allontaniamo non incontriamo il Dio nel mondo che stiamo esprimendo in quel momento dentro di noi e allora ci viene quasi da allontanarci per cui la ninfa non è altro che l'intelligenza di ciò che ci sta attorno al di là della forma con cui si rappresenta è l'intelligenza emotiva è la forza delle trasformazioni e dell'evoluzione che per milioni di anni ha attraversato gli esseri queste sono le ninfe e anche noi quando ci rapportiamo rispetto al mondo rispetto agli alberi rispetto alle fonti è la ninfa dentro di noi che si manifesta perché è il divino dentro di noi sono le nostre emozioni profonde che cercano le relazioni come fate a parlare con un albero se non ha la bocca ma parla attraverso le vostre emozioni parla attraverso le vostre passioni profonde e allora ecco l'altro aspetto della possessione quel momento stesso in cui l'uomo perde la ragione per qualche motivo esce da quello che è la descrizione della ragione il controllo della ragione sull'uomo l'uomo emerge dalla parte profonda dalla parte antica dalla amigdala dall'ipotalamo dal talamo tutte quelle descrizioni del mondo antico che una volta aveva e che anche oggi usa per leggere il mondo in maniera diversa dalla forma e dalla quantità come fa la sua ragione e costruisce delle relazioni e allora percepisce che l'albero è un essere vivente che l'albero esprime gli stessi dei che ha dentro di sé e allora comprende che il luogo è un genio è una ninfa che lo chiama capisce che quella montagna non è solo un accumulo di roccia ma è anche un'intelligenza che si staglia verso il cielo che ha le radici nella terra che è parte della terra parte dell'intelligenza della terra e il sole non è solo una palla di fuoco ma le sue emozioni e i suoi sentimenti che proietta attorno e che noi percepiamo con una parte profonda dalla quale normalmente siamo separati dalla descrizione della ragione ed è questo che Galasso non riesce a cogliere nel suo discorso delle ninfe perché le ninfe sono quei soggetti che si trasformano in dei continuamente certo mille storie possiamo raccontare sulle ninfe e mille volte possiamo trasformare le ninfe in forma umana o nella forma che noi vogliamo ma l'intelligenza in sé non ha forma l'emotività non ha forma le passioni non hanno forma ma sono le passioni l'intelligenza l'emotività la volontà il senso stesso della vita il senso stesso degli oggetti che si esprimono nella natura e che sono il corpo della natura pertanto non esiste la possessione come la usano i cattolici come la usano i cristiani come la usano i monoteisti o come la pensava lo stesso ermete trimegisto nel suo corpus ermeticum non esiste una separazione corpo e anima una separazione emozioni e corpo ma esiste un'unità effettiva è il corpo che manifesta l'intelligenza che manifesta la volontà che manifesta l'anima che manifesta le emozioni ed è il suo essere ninfa rispetto al mondo quando riesce quel corpo a dimenticare per un attimo la ragione la forma la descrizione del mondo e riesce a penetrare gli oggetti nel mondo come quando il feto stava nella pancia della madre che percepiva la madre come mondo e la percepiva attraverso le sue emozioni attraverso le sue relazioni empatiche ecco questo è il discorso sulla possessione che volevo farvi non è qualcosa che si impossessa del corpo ma se noi non siamo in grado di manifestare gli dei che abbiamo dentro di noi nel mondo in cui viviamo non riusciamo nemmeno a costruire il dio che un giorno potremo essere ma se non abbiamo sufficiente passione e sufficiente determinazione noi possiamo solo sprecare la nostra esistenza noi possiamo buttare via ciò che siamo disprezzando gli dei che da dentro di noi spingono per manifestarci nell'oggettività e questo è un elemento fondamentale della religione pagana politeista e spero di essere stato sufficientemente chiaro e vi prego di essere molto attenti su questo su questo aspetto perché questo è ciò che divide la religione pagana politeista da ogni altra religione che sulla terra si chiama tale o viene chiamata tale perché il pagano politeista non ha una verità davanti alla quale mettersi in ginocchio o davanti alla quale costringere in ginocchio le proprie passioni o le proprie tensioni ma ha una libertà una libertà d'azione nella quale deve esprimere gli dei che dentro di lui spingono per esprimersi e deve avere una forza sufficiente una disciplina sufficiente per disciplinare quegli dei e permettere loro di esprimersi all'interno delle regole e delle scelte della società civile e così il pagano politeista deve essere attento alla società civile in cui vive perché solo così può permettersi di esprimere gli dei nel miglior modo e di costruire nel miglior modo il Dio che cresce dentro di lui e che dovrà essere quel giorno in cui morirà il suo corpo fisico e partorirà il suo corpo luminoso Ercole si presenta all'Olimpo dopo aver fatto le sue fatiche e facendo le sue fatiche ha costruito il suo corpo luminoso ma Ercole non si presenta all'Olimpo come un supplice ma si presenta all'Olimpo come un Apollo pronto a tendere l'arco e a combattere nuove battaglie perché altri dei che compongono il suo corpo spingono affinché lui si possa esprimere e questo è ciò che noi siamo noi siamo un crogiolo di dei ed esprimendo gli dei di cui noi siamo il crogiolo costruiamo il Dio che cresce dentro di noi e con questo è il discorso che volevo farvi a proposito della follia che viene dalle ninfe scritta da Roberto Galasso Roberto Galasso si fa questo libretto un piccolo libricino che sono una serie di lezioni che ha tenuto lezioni specialmente questa qua sulle ninfe della quale non sono d'accordo ma che però esprime tutta una serie di elementi che ci permettono di fare tutta una serie di riflessioni e di capire che cos'è il paganesimo e perché il paganesimo politeista ha ben poco a che vedere con le altre religioni e ha una morale legata alla costituzione della repubblica e non una morale di verità alla quale qualcuno pretende sottomettere gli uomini bene ricordandovi io sono Claudio Simeoni meccanico apprendista stragone guardiano dell'anticristo vi do appuntamento per la prossima trasmissione magia stragonaria paganesimo dai microfoni di Radio Pagana ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione ciao grazie a tutti